Was ist eigentlich der Unterschied zwischen lassen und verlassen? In questo video spiegheremo appunto la differenza tra lassen e verlassen. Vedremo tanti esempi e alla fine saprete usarli in maniera corretta. Il verbo italiano lasciare può essere tradotto in tedesco con due verbi, con il verbo lassen o con il verbo verlassen. Lassen è più lasciare, è un verbo cosiddetto semimodale, mentre verlassen è lasciare e abbandonare. Lassen può avere il paradigma lässt, lis e gelassen se si usa appunto da solo e quindi non accompagnato da un altro verbo. E poi abbiamo il verbo verlassen, abbandonare, lasciare. Si usa per esempio con le persone quando si decide di lasciare qualcuno, nel senso di troncare una relazione, oppure quando si decide di andare via da un luogo, quindi abbandonare un luogo. E anche in questo caso abbiamo un paradigma irregolare. Verlässt, verliss e verlassen. Cominciamo da lassen, lasciare. Allora, vedremo adesso degli esempi. Come vediamo in questo caso il verbo lassen richiede il complemento oggetto. Abbiamo quindi Ecco, vediamo che ho evidenziato il complemento oggetto. Meine tochter, al femminile non si vede la differenza con il nominativo, invece con mich e dich vedete che appunto abbiamo il complemento oggetto. E lässt mich in ruhe. Ich lasse dich jetzt gehen. Ti lascio andare e lui mi lascia in pace. Abbiamo visto che il verbo lassen è un verbo irregolare. In tedesco si dice ein starkes verb, un verbo forte. Abbiamo visto il paradigma lässt, lies gelassen. Vediamo ancora la frase che abbiamo visto in precedenza. Ich lasse dich jetzt in ruhe. Ti lascio in pace. Vediamo che quindi in questo caso il verbo lassen è usato da solo. È un verbo appunto che può essere anche accompagnato da un verbo alla fine della frase. In questo caso però è appunto da solo. Ecco, se accompagnato da solo, il preteritum sarà Ich liest dich gestern in ruhe. Ieri ti lasciai in pace o ti lasciavo in pace, ma meglio col passato remoto in questo caso. E il perfect. Ich habe dich gestern in ruhe gelassen. Ieri ti ho lasciato appunto in pace. Quindi abbiamo Ich lasse per la prima persona. Terza persona, ricordatevi, è irregolare. Seconda e terza sono sempre regolari. Quindi du oder ihr lässt. Lies è il preteritum. E Ich habe, in fondo la frase, gelassen. Se invece il verbo lassen, il verbo lasciare, è accompagnato da un altro verbo in fondo alla frase, come per esempio qui, Ich lasse meine Katze in meine Bezschlafen. Quindi lascio nel senso che permetto al mio gatto di dormire nel mio letto. Ecco, in questo caso il paradigma del verbo non sarà più quello che abbiamo visto prima, quindi lest, liss e gelassen, con il ghe, ma soltanto lassen per quanto riguarda il perfect. Perché appunto? Perché questo è un verbo semimodale e che quando è accompagnato appunto da un verbo all'infinito, in fondo alla frase, non ha il perfect con gelassen, ma si comporta come i verbi modali che appunto hanno il doppio infinito. Avremo quindi al presente Ich lasse meine Katze in meine Bezschlafen, Ich lies meine Katze in meine Bezschlafen, invece per quanto riguarda il perfect Ich habe meine Katze in meinen Bezschlafen lassen. Quindi abbiamo il doppio infinito. Si comporta come il perfect dei verbi modali. Ecco, vedete, ho evidenziato in rosso il verbo lassen, che è al perfect, nella forma del doppio infinito. Quindi il paradigma del verbo lassen, se accompagnato da un verbo all'infinito, appunto è questo, lest, liss e gelassen. E non quindi come prima, lest, liss e gelassen. È uguale a sopra, ma cambia soltanto per il perfect, appunto. Quando abbiamo soltanto il verbo lassen, quindi senza il verbo all'infinito, avremo gelassen, mentre quando abbiamo un altro verbo avremo lassen. Ecco, vediamoli ancora entrambi questi due verbi, che sono gli stessi. Appunto uno è con gelassen, perché appunto c'è soltanto il verbo lassen e non c'è un secondo verbo in fondo alla frase. Invece se abbiamo un secondo verbo in fondo alla frase, come schlafen, dobbiamo mettere lassen e non gelassen. Vediamo un altro esempio. Mio padre mi fa guidare la sua automobile. Come si traduce questo far fare qualcosa? Ecco, anche qui si usa il verbo lassen. Ancora questo verbo che ci permette appunto, è come un modale, come vedete. Si traduce con mein Vater lässt mich seinen Wagen fahren, cioè mi permette di guidare la sua macchina, mi fa guidare la sua automobile. Abbiamo visto quindi che il verbo lassen può essere lasciare, che in questo caso appunto sta da solo, non è accompagnato da altri verbi, ha quindi il paradigma lässt, 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 quando invece è accompagnato da un altro verbo a un paradigma al perfect diverso, perché è un verbo semimodale, quindi si comporta come per i modali per la formazione del perfect, e quando vogliamo appunto dire anche far fare qualcosa usiamo questo lassen. A tutti gli effetti è un verbo semimodale, si chiama così, semimodale, il verbo lassen. Adesso facciamo degli esempi ancora con il participio passato del verbo lassen, che come avete visto può avere due forme per il perfect, quando appunto è da solo gelassen, come negli esempi che vediamo adesso. Ho lasciato il mio telefonino a casa. Ich habe mein Handy zu Hause gelassen. L'ho lasciato, quindi l'ho dimenticato. Ho lasciato i miei libri a scuola. Ich habe meine Bücher in der Schule gelassen. La madre ha lasciato la macchina alla figlia, quindi l'automobile. Die Mutter hat der Tochter den Wagen gelassen. Vediamo ora esempi in cui il verbo lassen al perfect appunto è lassen, non gelassen, perché abbiamo già un altro verbo nella frase. Ho fatto riparare l'automobile. Ich habe meinen Wagen riparieren lassen. Ho lasciato riparare, ho fatto riparare, quindi quando c'è questo far fare qualcosa. L'ho fatto correggere la mia lettera, chiaramente sempre da qualcuno. Ich habe meinen Brief verbessen lassen. Fosse stata una mail, ich habe meine Mail oder meine E-Mail verbessen lassen. Passiamo ora al verbo verlassen. Vediamo che il verbo a questo prefisso, fer, ma l'accento cade sul verbo lassen, quindi è fellassen. Quindi significa che il verbo è inseparabile. Significa lasciare, nel senso di abbandonare. Il paradigma è quindi fellest, verliess e verlassen. Può essere riferito a cose o persone, in questo caso è riferito a persone. Jemanden im Stich lassen, piantare in asso qualcuno. Quindi jemanden, con il complemento oggetto, con l'accusativo. Quindi si usa quando si decide di lasciare qualcuno, quando si lascia un ragazzo, una ragazza, il marito, la moglie, i partner, la fidanzata, insomma. In questo caso devo dire fellassen e assolutamente mai lassen, soltanto fellassen quando si lascia qualcuno. Per esempio, j'ha fellest seine Frau, quindi lui abbandona sua moglie. Oppure, adesso qui abbiamo un esempio al preterito, facciamo che sia lei che abbandonò suo marito. Si felliss i renman. Oppure ancora, erat seine kinder fellassen, lui ha abbandonato i suoi figli. Ma fellassen può riferirsi anche a cose, quindi io posso anche lasciare qualcosa, abbandonare qualcosa. Quindi potrei dire, er verlässt seine heimat, quindi lui abbandona la sua patria. Facciamo un esempio con il preteritum. Si felliss ihr land. Le abbandonò il suo paese. Oppure ancora, vi haben die party kurz vor mitternacht verlassen. Abbiamo quindi lasciato la festa poco prima di mezzanotte. Vielleicht war diese party gar nicht so interessant dann. Ecco, vedete, possiamo utilizzare verlassen quindi anche se riferiti a luoghi, che possono ad esempio essere la patria, possono essere il paese, ma anche dei luoghi come un ristorante. Siamo in un ristorante, non ci piace, vogliamo andare via. Quindi anche la festa di quel ristorante. Poi c'è anche un esempio un po' triste, che è questo. Mein Opa hat mich für immer verlassen, quando una persona ci lascia per sempre, quindi è sinonimo di morire. Mein Opa hat mich also verlassen, also er ist gestorben. Il paradigma quindi di questo verbo è irregolare, quindi verlässt, verliesse e verlassen. Ancora un esempio riferito a cose, quando dico che devo lasciare per esempio la casa, l'appartamento, perché per esempio sta arrivando il bus, ecco, posso usare anche questo verbo. Posso quindi dire Quindi abbiamo visto che il verbo verlassen è un verbo transitivo, Si può lasciare qualcosa, o anche qualcuno. Qui adesso vediamo ancora una volta gli esempi di che cosa posso lasciare, abbandonare. Quindi posso lasciare un paese. Ich kann also ein Land verlassen. Abbiamo un esempio. Viele Menschen verlassen ihr Land. Molte persone lasciano il proprio paese, il loro paese. Posso lasciare la patria. Die Heimat. Viele Menschen verlassen ihre Heimat. Ich kann die Autobahn verlassen. Amitiamo che siamo in autostrada, vogliamo andare, vogliamo uscire. Diciamo, wir müssen jetzt die Autobahn verlassen. Andiamo su un'altra carreggiata, su una strada, diciamo, che ci porta da un'altra parte. Ich kann aber auch einen Ort verlassen. Posso anche abbandonare un luogo. Zum Beispiel das Haus, die Wohnung, la casa, l'appartamento. Ich kann auch ein Lokal, ein Restaurant verlassen. Posso abbandonare, quindi lasciare il Ristorante. Vado via del Ristorante. Ich kann das Kino, das Theater. Si può utilizzare il verbo verlassen anche quando si lascia una persona. Quindi jemanden, sempre con l'accusativo, verlassen. Wenn zum Beispiel eine Frau ihren Mann verlassen, können wir sagen, sie hat ihren Mann verlassen. Quindi lei ha lasciato suo marito. Quindi abbiamo ihren Mann. Chiaramente vale anche il contrario. Quindi er hat seine Frau verlassen. Quindi è lui adesso che ha lasciato la moglie. Può valere però anche per il Partner. Den Partner kann man auch verlassen. Oder die Partnerin. Ma evidentemente anche l'amico o l'amica, il fidanzato o la fidanzata. Den Freund oder die Freundin. Per finire abbiamo ancora un ultimo significato di sich verlassen, quando è riflessivo. Quando è riflessivo richiede la preposizione auf più accusativo. Sich verlassen auf. Fare affidamento su qualcuno. Quindi ich verlassen mich auf dich. Io faccio affidamento su di te. Confido in te. Ecco, per dire confidare o fare affidamento usiamo appunto anche sich verlassen con la preposizione auf. In questo video abbiamo visto il verbo lassen e il verbo verlassen. Lassen significa lasciare, mentre verlassen significa lasciare nel senso di abbandonare. Lassen è un verbo cosiddetto semimodale, quindi si comporta come se fosse un verbo modale. Può essere utilizzato da solo o accompagnato da un altro verbo. E infatti ha anche due paradigmi. Quando è da solo al paradigma lest, lis, gelassen. Quando invece è accompagnato da un altro verbo ha il perfect, il participo passato, quindi non è gelassen ma è soltanto lassen. Abbiamo visto anche gli esempi per il verbo verlassen, che ha il paradigma verlest, verlis e verlassen. Quindi il fer non si stacca mai dal verbo e non c'è il ghe. Per quanto riguarda il verbo lassen, vediamo l'esempio con ich lasse dich jetzt in drue. Abbiamo visto che appunto quando c'è soltanto il verbo lassen si utilizzerà il paradigma lässt, lies e gelassen. Quindi ich lasse dich jetzt in drue, ich lies dich in drue e ich habe dich in drue gelassen. Quindi con il ghe. Mentre quando c'è un altro verbo in fondo alla frase, come per esempio schlaffen, utilizzeremo il paradigma lässt, lies e lassen. Quindi senza il ghe. Quindi al perfect ich habe meine Katze in meinem Bett schlaffen lassen. Quindi senza il ghe. Per quanto invece riguarda verlassen, abbiamo visto che si può lasciare un luogo. Er verlassen, weil sie seine Heimat. Quindi può essere la patria, può essere un paese, ein Land, può essere un luogo. Si abbandona, quindi si decide di abbandonare un luogo. Però posso anche decidere di lasciare una persona. In questo caso si tronca una relazione. Quindi er verlassen seine Frau. Abbiamo anche visto, per finire, che quando il verbo è riflessivo, avremmo sich verlassen auf, più accusativo, che significa appunto confidare in, far affidamento su. Ich verlasse mich auf dich. Quindi io confido in te. Adesso vi dico, ich verlasse mich auf euch. Ihr solltet diese Verben lernen. Quindi io confido in voi, spero che voi abbiate il tempo per studiare questi due verbi.